Salve a tutti, eccoci in un nuovo video, ormai di tempo ne è passato dai primi video che sono nati proprio verso marzo nel periodo della pandemia e mi trovavo impossibilitato a fare didattica in presenza e volevo rendermi utile Allora, all'inizio, questa volta desidero dedicare un po' di tempo all'inizio a contenuti non specificatamente nozionistici e desidero ringraziare tutte le persone che mi stanno seguendo, tutte le persone che mi stanno ringraziando tanti docenti che hanno probabilmente superato in maniera ottimale, in maniera da vincente il concorso e che hanno anche contribuito ad arricchire i nostri video con suggerimenti, riportando le proprie esperienze aiutandomi anche a commentare determinate richieste, determinate domande, determinati quesiti Poi ho scoperto con immenso piacere che ci seguono anche ragazzi più giovani, alcuni laureandi alcuni addirittura che stanno finendo la scuola secondaria di secondo grado e questi ragazzi insomma hanno come desiderio il poter diventare insegnanti e allora è giusto non chiuderci dentro la nostra cerca professionale e lasciare tutti gli altri fuori è meraviglioso secondo me che determinati ragazzi, anche giovani, possano sentire il desiderio di diventare professori e questa secondo me è anzi una cosa meravigliosa e quindi assolutamente volevo ringraziare anche i più giovani che ci seguono a tal proposito, giusto così, dato che sto parlando a grandi linee senza darvi dei dati vi voglio dire che la maggior parte del pubblico è compresa tra i 33 e i 45 anni e sono al 70% di sesso femminile questo solo per coloro che sono interessati alle statistiche anche se secondo me poi sicuramente questo dato ha una rilevanza secondaria ma ero desideroso di condividere con voi quello che posso vedere nelle statistiche e nei report di youtube oggi desidero fare un video con un taglio leggermente diverso un taglio che voglio dare per tutti coloro che mi dicono Francesco, chiamatemi Francesco mi fa più piacere è un bellissimo nome, sicuramente più bello della parola professore e coloro che mi dicono sento demotivazione difficoltà di studio bassa autostima di studio, no di studia problemi di autostima problemi a recepire, metabolizzare a migliorare l'efficacia dello studio efficacia perché sicuramente noi abbiamo fatto dello studio della cultura abbiamo fatto tanto leva su questo aspetto ma certamente è anche vero che a 30, 35, 40, 45 anni rimettersi a studiare o continuare a studiare per prepararsi a un concorso dove o la paula spacca non è che ci sono secondi possibilità sicuramente c'è una pressione psicologica e sicuramente c'è una difficoltà anche legata probabilmente al tempo per cui la nostra mente plastica la nostra mente tesa capace di imparare molto rapidamente ovviamente questa propensione ad imparare, a ricordare si modifica negli anni e allora è anche bello insomma è anche giusto dedicare un pochettino di spazio a tante persone che mi chiedono delle risposte che più che sono magari non sono prettamente di livello nozionistico mi chiedono delle mi fanno delle domande e quindi chiedono delle risposte di ad esempio come studiare come studiare in maniera efficace bene allora senz'altro quando dobbiamo studiare dobbiamo eliminare tutti i fattori di disturbo immaginiamo facciamo una metafora immaginiamo di essere un'automobile tutto ciò che rovina le performance dell'automobile ovviamente la va a danneggiare e va a danneggiare il percorso che viene che noi ci prefissiamo cioè se troviamo degli ostacoli delle buche dei blocchi è ovvio che dobbiamo evitarli dobbiamo cioè andare a sbattere metaforicamente contro noi stessi o contro le nostre difficoltà che non sono le nostre debolezze ovviamente sono le nostre peculiarità sono le nostre caratteristiche non sicuramente fare questo tipo probabilmente anche di errore non ci aiuta dobbiamo comprendere noi stessi dobbiamo sicuramente accettarci dobbiamo cercare di eliminare anche i fattori di disturbo endogeni ed esogeni cioè quelli interni e quelli esterni a noi dobbiamo sicuramente far leva dobbiamo individuare tutte le risorse che abbiamo a disposizione individuazione delle risorse noi sicuramente lo dobbiamo fare con le nostre classi e con i nostri studenti però ogni tanto dobbiamo allenarci a farlo anche con noi possiamo stilare ad esempio un elenco di tutto quello che ci serve per questo concorso possiamo notare tutte le risorse che abbiamo a disposizione libri video colleghi gruppi studio tutto ciò che ci aiuta tutto ciò che ci aiuta a memorizzare i concetti le informazioni questionari ripeto creare dei gruppi studio oppure insomma creare comunque delle situazioni che favoriscono l'apprendimento sicuramente la progettazione anche per quanto riguarda noi la progettazione o il piano di studi piano di studi dove ci prefiggiamo degli obiettivi mi raccomando raggiungibili non chiediamo a noi stessi quello che non possiamo quello che probabilmente non riusciamo a raggiungere perché magari viviamo delle realtà difficili viviamo dei momenti no viviamo abbiamo tante difficoltà extra scolastiche anche io insomma nei miei video live ho sempre cercato di non mascherare di non creare un mondo ideale un mondo non vero dove magari mi vedete sempre sorridente sempre felice sempre motivatore motivante mi avrete visto anche spento in qualche video o semplicemente affaticato perché questa è una caratteristica di tutte le persone di tutti gli esseri umani io chiamo insomma esternare tutti i miei limiti le mie caratteristiche ma anche tutto quello che è in dubbio che possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi ovviamente il nostro lavoro conta sia quando stiamo in difficoltà che quando stiamo bene quindi dobbiamo sicuramente avere un piano di studi dobbiamo accettare i nostri limiti dobbiamo capire targettizzare capire cosa studiare come utilizzare le nostre risorse che abbiamo a disposizione dobbiamo fare una valutazione dei tempi rispettare il programma concederci anche del tempo sicuramente adottare un approccio positivo propositivo e positivo un approccio con noi stessi approccio propositivo e positivo e positivo creare questo quindi anche noi un ambiente nel quale possiamo essere mentalmente predisposti a recepire ciò che vogliamo affrontare e ovviamente mi riallaccio a quello che avevo detto in precedenza se siamo distratti avremo più difficoltà ad apprendere e a ricordare gli argomenti da imparare dobbiamo cercare di pensare in maniera positiva non dobbiamo per forza paragonarci agli altri colleghi che sembrano non avere problemi non avere difficoltà sembra che fanno tutto in maniera perfetta dobbiamo incoraggiarci dobbiamo pensare che questo concorso lo supereremo dobbiamo pensare che il pensiero negativo può sfiorare la nostra mente però non pensare che saremo un distrastro che il concorso andrà male che è la nostra unica possibilità cioè ecco pensare che è una il concorso è un qualcosa cioè senza concorso non cambierebbe nulla il concorso è un'opportunità vedere trasformare tutto anche quello che ci mette giù trasformarlo in qualcosa di estremamente positivo quindi trovare un ambiente io direi trovare un ambiente tranquillo un ambiente sereno sereno tranquillo dove il nostro rendimento possa mostrarsi dove la nostra concentrazione possa essere efficiente dove ad esempio adesso non è che possiamo andare in ambienti quali biblioteche ambienti diciamo anche pericolosi per questo covid però sicuramente possiamo cercare anche di parlare con la nostra famiglia con le persone con le quali abitiamo abitualmente prenderci degli spazi solo per noi sicuramente tanto una volta che noi cominciamo a muovere la nostra mente essa continua quest'ultima continua ad elaborare i nostri pensieri quindi il nostro studio il nostro apprendimento non finisce nell'istante in cui smettiamo di studiare ma anzi possiamo continuare a elaborare tante conoscenze anche dopo gli intervalli prettamente di studio a proposito di intervalli bisogna a mio avviso studiare con pause cioè la vita è fatta di suoni e silenzi la musica è fatta di note e pause anche nello studio che può essere intenso e senza interruzione è importante ogni tanto fermarci prenderci del tempo e poi ricominciare fare un'auto valutazione interrogarci chiedere se stiamo interrogarci scusate interrogare noi stessi ad esempio possiamo utilizzare delle flashcard dei questionari di test domandarci se stiamo andando nella direzione giusta fare dei test per ricordare le informazioni possiamo chiedere ai nostri colleghi a che punto sono capire dove ci troviamo dove stiamo andando se stiamo prendendo la direzione giusta utilizzare tutti i cinque i sensi sicuramente noi ricordiamo attraverso tutti i cinque sensi non solo attraverso l'ascolto non soltanto attraverso la visione quindi se noi riuscissimo ad adoperare le nostre capacità sensoriali in maniera da impiegare più di un senso mentre studiamo sicuramente possiamo migliorare il nostro rendimento possiamo ripetere ad alta voce possiamo prendere appunti possiamo che ne so mettere in stanza qualche profumo qualche odore sicuramente tutto questo aiuta sicuramente esistono anche dei giochi di memoria esistono anche delle tecniche di memorizzazione poi se siete interessati nei commenti qua sotto mi potete chiedere altri video io li farò sicuramente possono quindi scrivo più che giochi tecniche di memoria di memoria sicuramente si possono usare anche canzoni acronimi tecniche menemnoniche possiamo usare grafici mappe concettuali possiamo riscrivere gli appunti possiamo riformulare quindi riformulazione perché nella riformulazione siamo portiamo una parte soggettiva cioè ciò che apprendiamo lo rendiamo soggettivo lo rielaboriamo lo ricontestualizziamo secondo anche la nostra specificità e secondo quello che noi immaginiamo possa esserci richiesto cercando di prendere quello che ci serve di più c'è la riformulazione di tutto quello quindi nella riformulazione sicuramente c'è un processo di sintesi c'è un processo prima di analisi c'è un processo di cioè ci sono diversi processi di apprendimento delle informazioni e sicuramente questo ci aiuta ci può aiutare allora bene io desideravo fare un video diverso insomma dal dal solito perché me lo avete chiesto in tanti e quindi desidero sempre andare in direzione delle vostre richieste e quindi lasciatemi dei commenti ah un'altra questione siete veramente pochi ad esservi iscritti cioè pochi non in numero assoluto perché in realtà siete tanti a seguirmi però il 25% delle persone che seguono il canale è iscritto un 75% no cioè siete in realtà più di 30.000 persone che vedono non dico tutti i giorni però che vedono una certa costanza i video allora ecco se volete aiutare questo canale sicuramente differente libero indipendente iscrivetevi condividete i video dove volete su social network su whatsapp su facebook mettete mi piace lasciate commenti cioè siate una parte attiva di questo progetto di questo percorso io con questo vi ringrazio vi saluto e al prossimo ovviamente vi auguro sempre quello che lo auguro sempre in piccino una buona giornata un buono studio tante cose belle a tutti e alla prossima un caro saluto da francesco un po' Grazie a tutti.